Il palazzo del governatore di Nicolai che è stato distrutto da un missile, probabilmente lanciato dall'incrociatore Moksva, dal Mar Nero, dall'ammiraglia della flotta russa che è stata fondata. 36 persone morono qui. Come a Kharkiv, anche qui a Nicolae, bombardano i palazzi dei governatori. Purtroppo queste sono le strisce di sangue di chi è rimasto ferito o ucciso. A che tempo si è rimasto? 8.45 am, prima di 20-50 minuti per il start del lavoro. Quando i russi stanno bombando il ruolo del governo, stanno bombando in avanti il aeroporto di Nicolae. Questo è quello che resta nell'aeroporto civile di Nicolae, colpito dai russi, che la scorsa notte hanno bombardato anche un ospedale qui vicino. Periodicamente si chiedono di uscire le espansioni e le trasformazioni. Si chiedono di circostarci in un ring e dopo di fare Mariupol anche in Nicolae. A Nicolae non c'è acqua, viene distribuita in questa maniera dai volontari. Questa è la gente comune, gli abitanti in questa città, colpita dai russi, che hanno tagliato anche l'acqua. L'autobus viene praticamente presa d'assalto. Gli abitanti arrivano a Frotte per prendere l'acqua, perché manca l'acqua. Tu sei di Nicolae, no? Sei proprio di questa città. E hai deciso di sposarti? Sì. Tu vivi a Roma? Ora sì, per guerra. Se non eravamo, saremmo in Italia e piaverebbe questo vino là. Viva gli sposi! Grazie! Grazie!